Professore Massimo Cacciari a Palermo all'interno della settimana Alfonsiana che quest'anno ha come tema E' beato chi non si scandalizza di me. Scandalo vuol dire letteralmente un impedimento, un ostacolo. Ci sono degli impedimenti, degli ostacoli che sono dei problemi che dovremmo affrontare o saper affrontare. Citando Sant'Agostino, il cuore dell'Europa è inquieto. Possiamo dire ogni giorno sempre di più. Secondo lei quali sono gli scenari economici e politici che si possono presupporre per il prossimo futuro? L'Europa sta correndo un enorme rischio. L'Unione Europea così come ha funzionato finora non ha funzionato. Non ha corrisposto alle promesse, non ha corrisposto ai desideri, ai bisogni assolutamente legittimi, soprattutto dei giovani. Ma che stiano molto attenti a non buttare via l'acqua sporca, cioè la politica europea che finora abbiamo vissuto, soprattutto nell'ultimo ventennio, e il bambino che sono loro, che sono i giovani. Il fallimento di antiche politiche fa apparire che sia la prospettiva, l'idea regolativa, l'obiettivo sbagliato. No, l'obiettivo era sacrosantemente giusto, è necessario. Il modo in cui è stato perseguito, soprattutto a partire dalla Unione Monetaria, è un modo profondamente sbagliato. Quali strumenti hanno i giovani, secondo lei, oggi per poter fare questo ragionamento? Ragionare, ragionare, ragionare. Non farsi abbindolare da chi sul fallimento dell'Unione Europea gioca le sue fortune politiche. Crisi della sinistra. Quello che accade oggi è il frutto di un processo iniziato, come ha detto lei, negli anni 70 e negli anni 80. Dal suo punto di vista c'è una prospettiva di riscatto per la sinistra? E se sì, quale? Di agganciarsi a questa ripresa di un'idea europea, denunciare il modo in cui è stata condotta finora e giocare le sue carte su una nuova politica europea, che sia una politica di sviluppo. Bisogna rimettere come pilastro dell'Unione l'idea di solidarietà, di sussidiarietà. La sinistra si gioca tutto su questo piano, la sinistra, chiamiamola così, la sinistra europea. Si gioca tutto sul piano, sulla prospettiva di una ripresa di un'unità politica europea. Una politica che si è effettivamente di riforma. Siamo in un circolo perfettamente vizioso, non possiamo più pensare di andare in conto come è necessario alle legittime attese anche di reddito di ampi settori della nostra popolazione, semplicemente aumentando il deficit. Questa è una strada suicida. Noi stiamo facendo delle politiche che stanno ammazzando i giovani. Perché quando aumentiamo il debito di 2, 3, 4 miliardi al mese e tutte le politiche che adesso si stanno profilando vanno ad aumentare il nostro debito, noi carichiamo i giovani di una massa di debito che non potranno in alcun modo sostenere. Nel nostro paese si parla di una deriva fascista. Secondo lei è un pericolo concreto o il fascismo è un capitolo della storia definitivamente archiviato? Definitivamente archiviato, evidente. Non ha nessun senso. Il fascismo come il nazismo erano i prodotti di una crisi della democrazia liberale in un momento in cui gli stati europei erano ancora grandi stati. La prospettiva drammatica che esiste è il ritorno a forme di micronazionalismo. Questi nazionalismi saranno l'uno contro l'altro armato. Quindi la prospettiva che abbiamo se si sfascia l'Unione Europea è quella di staterelli che si faranno le guerre, non armate perché non hanno neanche più i fucili, non armate, ma guerre di tipo commerciale, daziale, fiscale gli uni contro gli altri ad ammazzarsi tra poveri. Da quando è nato questo governo sono partiti per l'estero 100 miliardi di euro. è quello che dice Draghi. Attenzione anche a parlare. Ragionate fanciulli, ragionate insomma, viva Dio. Non è possibile pensare che in democrazia ci sia un'opinione pubblica del tutto impreparata, del tutto incompetente, del tutto incapace di ragionare. Perché se è questo non c'è niente da fare. Si tratta di cambiare tutto, si tratta di un nuovo inizio anche per la sinistra, ma si tratta soprattutto per l'opinione pubblica di assumere anche lei, anche dal suo punto di vista, una qualche responsabilità. Da cosa si può ripartire? Da quello che può fare ciascuno all'interno della propria professione, all'interno delle proprie associazioni, all'interno dei propri partiti.